la facciamo qua ragazzi buongiorno senatrice possiamo chiedere una cosa sola? quando io passo questo ingresso non sono più la vecchia che sono adesso sono quella che è entrata qui per essere deportata non l'ho mai dimenticata via da davanti per favore buongiorno presidente presidente grazie fotografico non venite qui per imparare presidente grazie presidente possiamo 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 il senso di questa giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti senatrice ma secondo lei perché il presidente la russa così paura a definirsi antifascista? abbiamo chiesto la risposta ha detto che non c'entra con questo luogo antifascismo grazie a tutti 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 grazie a tutti